F.B.I. Mare in vista! Sai bene? Sì, sono solo un po' nervoso. Beh, sei molto affascinante. Non voglio mandare tutto all'aria. Ti stai preparando a questo incontro da mesi. Ce la farai. Vi faccio una domanda. Papà chi ama? Me. Papà chi ama? Me. Me. Esatto. Papà va a guadagnarsi il pane. Che schifo. Signor Sawyer, la sua famiglia si gode il soggiorno? Molto. Sono sorpresi che ci abbia dato l'intero piano. Dopo la sua ispezione, cosa pensa dell'edificio? Con il dovuto rispetto, lui è poco più di una guardia giurata. La prego. Il Pearl è l'edificio più alto e più sofisticato del mondo. Lei ha costruito una città verticale. Ma così facendo, lo ha esposto a ogni sfida alla sicurezza che possa venirmi in mente. Credevo che il piano fosse vuoto. Anche io. E come se non bastasse, queste sfide le ha distribuite su 240 piani di altezza. Nessuno sa che può succedere se qualcosa va storto. Ma io sono solo poco più di una guardia giurata. Quindi che posso saperne? Che succede? Il 96esimo piano è in fiamme. Andrà tutto bene, te lo prometto. No, 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 no! Papà! Dimmi, quanto ami la tua famiglia? Se usciremo da qui, dovrà dirmi la verità. C'è una ragione. Si hanno scelto quest'edificio. Ora l'unica cosa che conta per me è la mia famiglia. C'è una ragione. Grazie a tutti.